Questa mattina ha preso il via l'autogestione all'Istituto Tecnico Industriale di Ravenna. Una mattinata ricca di incontri organizzati dagli studenti per condividere interessi e passioni o per ospitare esperti esterni ed approfondire diverse tematiche legate a temi scientifici o culturali o di attualità. Era da molti anni che a Littis Nullo Baldini non veniva organizzata l'autogestione e siamo molto contenti di vedere che gli studenti hanno compreso l'importanza di questa iniziativa, ha commentato Dennis Rossi, rappresentante dell'Istituto. La partecipazione è stata altissima e questo per noi è un grande successo. Veramente è una cosa particolare che ha stravolto un po' gli equilibri sia dei ragazzi che anche dei docenti, possiamo dire, personale, tutti i collaboratori che frequentano l'Istituto. Perché era da anni che non avveniva? Era da anni che non avveniva, è stato proposto dai rappresentanti in tantissime occasioni negli anni passati, ma sia magari per ragioni burocratiche che per ragioni tecniche non è mai stata realizzata concretamente. Quest'anno ce l'abbiamo fatta, siamo in corso di autogestione. Oggi è la prima mattinata, come sta andando e appunto per domani cosa prevedete? Oggi, prima mattinata, a livello personale sono veramente sorpreso con anche i miei colleghi. C'è stato, i ragazzi hanno risposto bene al progetto, credevamo ci fosse un tasso di assenza più elevato, mentre c'è una grande partecipazione, tant'è vero che abbiamo diverse lezioni sovraffollate, quindi non ci sono particolari situazioni di disagio in giro per l'Istituto, quindi per ora sono pienamente soddisfatto. Siamo soddisfatti, perché ovviamente non sono solo io. L'autogestione è un'occasione per affrontare tematiche che magari nei programmi scolastici non vengono approfondite. Voi avete organizzato degli incontri particolari? Allora, sicuramente sì. L'autogestione è proprio, come diciamo in assemblea, è un momento nostro, dove non si fa la classica lezione frontale tra studenti e insegnanti, non è affatto una perita di tempo, come ritengono alcuni. Noi abbiamo organizzato molti incontri su qualsiasi tipo di tematica, cioè possiamo, partiamo dalla politica fino ad arrivare, fino a spaziare i buchi neri, oltretutto tramite un nostro studente interno, per passare alla cultura romagnola, insomma i dialetti che non vengono mai presi in considerazione, ma in Italia proprio a livello generale, e così, tante tematiche, sì, con molti esterni che si sono offerti di venire anche da fuori città. Molto soddisfatto qui. Sì, 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 per ora soddisfatto, domani speriamo, è prevista neve, speriamo non succedano intoppi, perché sarebbe insomma un problema non da poco spostare soprattutto le persone che gentilmente vengono da fuori per farci vivere un'ora serena, insomma, così, è diverso, diverso dal solito, sì.